Le forze armate del futuro potrebbero utilizzare aeromobili a risposta rapida dotati di motori in grado di spingerli a velocità supersonica. La By Systems, azienda inglese del settore aerospaziale e della difesa attiva a livello mondiale, sta infatti studiando una nuova tecnologia per operazioni militari in cui potrebbero essere necessari rapidamente una moltitudine di velivoli senza pilota da mandare in azione in situazioni di crisi, velivoli in grado di superare le difese missilistiche e portare a termine il loro obiettivo. Uno scenario quasi da guerre stellari ma allo studio degli scienziati e degli ingegneri dell'azienda inglese che potrebbe diventare presto realtà.